oggi ho selezionato quattro domande relative al nuovo titolo di campione del mondo dei pesi massimi che verrà assegnato a night of champions e per vincere il quale è attualmente in corso un torneo che coinvolge sia row che smackdown allora uno cosa succede se a vincere la cintura sarà un atleta dallo show blu o molto interessante ma io credo che se a prevalere fosse uno di loro beh ovviamente si trasferirà a row e inizierà a difendere la corona quindi smackdown perderebbe un suo top e la wb potrebbe fare in modo che row rimborsi la controparte con un atleta di pari valore ad esempio vince edge vince edge styles vince bobby lashley chiunque dovesse farcela di smackdown se si prende la cintura chiude l'armadietto e varo ne diventa il campione ed è lì pronto ad accettare nuovi sfidanti ma un atleta similare deve fare il percorso inverso quindi magari row cede set rollins dico un nome a caso set rollins compare a smackdown e dice ok mi hanno spedito qua roman reins tu non mi hai battuto però sai una cosa adesso miro ad abbatterti e a prendermi la tua cintura chiaramente sono scenari fantasiosi ma è quello che potrebbe accadere se a vincere fosse un atleta di smackdown 2 non è scontato che a prevalere nella finalissima sarà un combattente di row beh se usiamo semplicemente il tappeto della logica dovrebbe andare così perché ti togli ogni problema hai le unghie già affilate non devi fare scambi trasferimenti creare confusione quindi apparentemente si va verso quel porto ma nel wrestling mai dire mai anche perché come abbiamo visto con un po di ingegno si può trovare un modo per aggiustare tutto quindi pronostico prima di scoprire prima di sapere i finalisti 75 80 per cento a tale età di row ma l'alfiere di smackdown non deve essere messo da parte o ignorato nelle sue chance a prescindere mi sembrerebbe anche un po troppo telefonato no è vero a volte il wrestling è prevedibile ma che vinca così quello dirò senza neanche sudarsela quindi voglio lasciarmi aperto alla sorpresa chissà magari sono io un inguaribile romantico in realtà poi tutto andrà come deve come è più probabile però ho come questa piccola sensazione questa pulce nell'orecchio che ogni scenario è plausibilmente verificabile 3 perché nel torneo ci hanno messo anche le star di smackdown bella domanda in effetti la cintura è di row e perché questi se la giocano allora ci sono diversi motivi o diverse intuizioni ne metto sul piatto alcune allora un motivo che ci dicono i siti americani è che in questo periodo televisivo in america negli states c'è una fortissima concorrenza perché sono in atto sono in corso i playoff sia del basket NBA che dell'hockey NHL quindi la wb ha bisogno di proporre delle puntate settimanali con mordente che sembrino imperdibili che ci possano dare dei match insomma importanti dei match allettanti e se guardiamo la line up della prossima puntata di smackdown beh quelli del torneo lo sono cioè re misterio contro edge contro edge styles sulla carta sembra una figata pazzesca ma anche bobby lashley contro shimus contro austin theory mi sembra una primizia quindi wb ha la necessità di tenere delle line up delle card belle robuste per attrarre spettatori che potrebbero migrare altrove il secondo motivo per cui forse è giusto coinvolgere anche le star di smackdown è che ci sono finite in quello show non per loro scelta ma perché c'è stato il draft il draft ha diviso gli atleti della wwe ma a questo punto che finisco a smackdown e sono cornuto e mazziato perché c'è una nuova cintura e io non posso nemmeno provare a metterci sopra le mani quindi il torneo allargato sembra dire un attimo il draft ha fatto questo taglio è stata una forbice ma in questo caso c'è un lascia passare puoi partecipare anche tu è un istante è un momento è un'occasione in cui la gloria non è negata a nessuno è un ultimo corridoio un ultimo tunnel attraverso il quale cercare di cambiare il proprio destino ed evidentemente in caso di vittoria anche il brand di appartenenza quindi non facciamo torto magari anche a chi ha già perso una rivalità con Roman Reigns dicendo no non puoi più ambire al paradiso c'è un'ultima scialuppa alla quale aggrapparsi quindi se vedo la cosa in questa ottica riesco a digerirla mi sta bene sono altre le criticità narrative sulle quali andrei a puntare il dito anche perché come vi ho detto prima alla fine io come fan ne guadagno vedo dei bei match come quelli già disputati a Raw nel torneo vedo i prossimi di SmackDown quindi alla fine è una scelta che aumenta lo spettacolo e allora va bene ci sto non sto lì tanto a fare le pulci alla matematica e ai neuroni la prendo e mi metto davanti al televisore quarta e ultima domanda ma questo nuovo titolo non parte come una cintura di serie B come a dire non puoi battere Roman Reigns ecco il premio di consolazione capisco da dove arrivi questo modo di pensare e ci sta ci sta è logico abbiamo un campione iperdominante che sta battendo ogni record che in un modo o nell'altro spesso rubando comunque mantiene saldamente lo scettro del potere che non si riesce a scardinare o a spingere giù dal trono quindi può essere che questo nuovo titolo magari per le prime settimane venga visto con questa ombra con questo timbro addosso ma poi dipenderà dal campione cancellarlo perché il titolo lo fa l'uomo che lo porta alla vita e se dovesse vincerlo un atleta che poi c'è ogni puntata c'è nei live event e quindi anche qui aumenta il blasone degli show proposti dalla WWE difende regolarmente ad ogni premium live event disputa match pazzeschi fantastici che fanno parlare i fan che generano interesse spettatori eccetera allora no non è più un titolo di serie B nasce con queste catene addosso nasce con questo pregiudizio che per certi versi ve l'ho anche ammesso pregiudizio non è ma può sciogliersi può rarefarsi a seconda di chi avrà la cintura e di come e con che frequenza la metterà in paglio quindi l'alba è un po' spenta ok ma il sole a mezzogiorno potrebbe essere il sole da leoni quello estivo quello che ti abbronza non appena esci di casa quindi comprendo e per certi versi accompagno queste critiche iniziali però vi invito ad essere un po' fluidi perché la cintura poi modificherà la sua immagine come già vi ho detto a seconda di come verrà proposta attraverso l'uomo che l'avrà addosso come simbolo e direi che con questa replica ho terminato ora la palla passa nel vostro campo dita roventi potete aggiungere le vostre opinioni a tutto quanto vi ho già detto A presto